Salve brava gente, eccoci qua ritrovati su Destron Empire per parlare un po' della grossa sorpresa che ci ha fatto Bandai, dopo un po' di tempo che non buttavo fuori uno dei miei video di commenti, ma tanto sapete voi già di cosa si parla, però è per fare una chiacchierata assieme. Bandai-san, big surprise, thank you. Questo titolo del cacchio, scusate, era per commentare quell'annuncio che ha fatto Bandai, che adesso prima di andare a vedere ormai quello che sapete già tutti cos'è, però mi viene in mente sempre. Bandai fa sempre il Tamashination a novembre, poi quando c'è la Golden Week dell'anno dopo, c'è la Golden Week che è questa ponte mega galattico che c'è qua in Giappone alla fine di, adesso siamo già nella Golden Week alla fine di aprile, inizio di maggio, ti butta fuori notizie e ti butta fuori annunci che non aveva, non aveva proprio affatto vedere nella Tamashination, così di nuovo, boom! Beh allora la Tamashination, che cazzo, cosa vuol dire? Che senso ha? Sono queste sorprese però, effettivamente, ti lascio la bocca aperta, però se non ci fossero le sorprese la vita non sarebbe divertente. E' lui e non è lui, e certo che è lui, parliamo del DX Chogokin, Mechagojira Senkiakuna, 1974. Perché quest'anno, ovviamente gli appassionati del grande Mazinga sanno che il cinquantesimo del grande Mazinga, anche se proprio non se ne parla, e ti fanno ancora il cinquantesimo di Mazinga Z, ne avevano proprio, proprio piene le palle, scusatemi, fatemelo dire, di Mazinga Z ne ho pieni coglioni, veramente. Sono talmente tanto pieni che sono tipo veramente, gli attributi sono quasi le gazzette anche i miei, stanno diventando veramente pesanti, no basta, Mazinga Z veramente. Di commemorativo del grande Mazinga c'è quell'album, quel libro che ho recensito la scorsa volta, poi uscirà anche Kudai Shogun, il generale Nero, probabilmente uscirà quest'anno il Kakume Shinka del grande Mazinga, penso, e tutti pensavano che è quest'anno, visto che è il cinquantesimo del grande Mazinga, magari Bandai potesse fare una ristampa migliorata, come per quanto riguarda Mazinga Z e il DX. A differenza che il DX di Mazinga Z effettivamente io non l'ho nel primo o nel secondo, per cui guarda, non lo so, e sinceramente mi interessa anche ben poco. Ho solamente il clonazzo ingrandito della Kingars di Mazinga Z, quello smontabile. Pare che la prima versione, rispetto a quest'ultima che è uscita, c'è quest'ultima migliorasse molto tutti i problemi che aveva la prima versione DX di Mazinga Z. Il grande Mazinga, le proporzioni della testa, alcune cose eccetera, però per la resta è fatto bene. Ci sono alcuni punti che magari sono un attimino migliorabili, però effettivamente era già un passo avanti al primo DX di Mazinga Z. Magari cambiare la colorazione, mettere una colorazione più chiara eccetera, non lo so, ma non so quanto ci sarebbe da cambiare, poi sinceramente il grande Mazinga aveva venduto abbastanza poco come DX. Era rimasto per tanto tempo su Amazon col prezzo di listino, cosa un po' strana per un DX. La stessa cosa che era successo anche per il combattere, che addirittura invece era andato giù di prezzo. Diciamo che se ci sarà la ristampa, o comunque una ristampa migliorata, secondo me sarà esclusivamente sul Premium, sul Tamaci Store. Non sarà messo in vendita sui negozi normali tipo Amazon. Io pensavo così, poi vedremo. Perché probabilmente noi tutti pensavamo quest'anno, l'anno scorso su Mazinga Z, quest'anno uscirà per il cinquantesimo grande Mazinga e l'anno prossimo col fatto del remake, se non c'era il remake ce lo potremmo scordare, ma col fatto del remake ci sono possibilità che esca anche Goldre. E invece Bandai ci fa questo bellissimo regalo del DX Chowokin di Mechagodira 1974, perché quest'anno è anche il cinquantesimo di Mechagodzilla, la prima volta che lo vediamo in un film. Ed è... per me veramente il 74 è un anno magico, perché nel 74 è nato il mio super robot preferito che è il grande Mazinga, ma anche il mio Kaiju preferito che è Mechagodira. Perché sono veramente contento personalmente che Bandai ci abbia fatto questo regalo. E... il prezzo poi sono rimasto stupito perché sono 40.000 yen neanche. Cioè siamo tornati agli standard del primo DX, quello di Mazinga Z come prezzo. C'è questo video molto esauriente, fatto da Okazaki-san, che si diverte a smanettare, perché Okazaki-san si vede che lui piace giocare con i Chowokin, e smanettare con tutti i bottoni, perché sono tutti i bottoni sulla cresta, sulle placche che ci sono dietro sulla schiena del Mechagodira, che schiacciando di qua, schiacciando di su, vediamo se si vedono, no qua non si vedono, comunque schiacciando le placche che ho qua sulla schiena, eccetera, queste quasi, ha un sacco di gimmick, cioè i raggi laser dalla testa, c'è tutti i led che hanno vari tipi di illuminazioni, la barriera per simulare la barriera, eccetera, poi anche questo raggio che spara dalla pancia, eccetera, eccetera, ha un sacco. E poi c'è anche il tema di Mechagosilla, che non lo potete sentire sul video di Bandai per questioni di copyright, però se lo comprate sapete che ce l'avete. C'è anche un altro gimmick, perché Mechagosilla, il primo, che tra l'altro è l'unico Mechagosilla, tra virgolette, cioè, tra virgolette, no, cattivo, completamente, perché poi gli altri, Mechagosilla, quello degli anni 80, 80-90, se non, forse i primi anni 90, il primo remake che hanno fatto, fine anni 80-90, era sempre delle forze di difesa giapponesi, come per l'ultimo Mechagosilla, il Kiryu, quello che è stato il soggetto, il GX-103, erano tutti Mechagosilla, tra virgolette, tra virgolette, creati dalle forze di difesa giapponesi per combattere Godzilla, mentre questo qua è stato creato dagli alieni del buco nero, Black Hole Saging, era completamente cattivo, che tra l'altro all'inizio arrivava mascherato da Godzilla con proprio questo finto, pelle finta di Godzilla che poi gli viene tolta durante durante il film. Comunque questo qua erano proprio i film di Godzilla degli anni 70, quelli più kitsch, quelli più commerciali. Però era il periodo in cui andavano di moda i robot, i super robot, per quello avevano deciso di fare anche un robot per la serie di Godzilla, ed è venuto fuori questo Mechagosilla. E una delle altre sue armi erano i finger missile, dei missili digitali, tipo Venus, che le mani da verticale si cambiano al 90% in orizzontale e così sparano tutti i missili digitali. Ci sono alcune gimmick, dove però anche nei videogiochi, eccetera, che le mani rotano a 360 gradi dopo che hanno sparato, no? Avrei voluto che ci fosse anche quella gimmick, invece hanno messo una gimmick a molla che fa scattare il palmo della mano da verticale, orizzontale, però la gimmick che lo faccia girare, no? Quella purtroppo non c'è. E poi hanno fatto bene tutte queste giunture a fisarmonica delle gambe, che ho visto si muovono molto molto bene, sembra. E questo design veramente, che è quasi della seconda metà degli anni 60, che vogliamo, è molto arcaico come design questo qua di Mechagosilla, ma a me piace un casino. Sono contento che abbiano... è il Mechagosilla, se vogliamo, più slim. Ha un po' la pancia da vecchietto, però è slim come rispetto agli altri, che sono un attivino più massicci. Però a me è sempre piaciuto questo design. E poi c'è anche la possibilità di simulare la modalità volo, che la si fa purtroppo con il paraforming, si cambiano la testa e si cambia la coda. Poi vedete tutte le modalità per l'illuminazione degli occhi. Potete anche girargli la testa a 360 gradi, che nel film, se non sbaglio, si vedeva quando faceva, attivava la barriera. E c'è anche proprio il suono della barriera, eccetera, eccetera. Anche se gli fate girare la testa a 360 gradi, comunque i led continuano ad emettere luce. Beh, se tratta di 270 mm, io ho provato a misurare il mio Kiryu, che ho qua, il Gex 103, ed è veramente più rosso, sensibilmente. Poi vedremo quanto Daikias avrà. Avrà perché ho visto dal video, mi sembrava che ne avesse tanto, ma non tantissimi. Per cui magari un chilo lo peserà, ma non penso di più. Non penso che avremo in mano una cosa massiccia, come i Chogokin, che sono usciti nel 2000, nella seconda metà degli anni 2000, che erano i Chogokin di Kiryu nel 2008, 2006-2008, quelle parti che erano proprio... erano abbastanza piccolini, erano 16-17 cm, ma erano un blocco di metallo. Questo non penso che abbia la stessa densità di metallo, però io, insomma, un personaggio che ho sempre amato, sono solamente contento che Bandai ce l'abbia fatto. Vedete qua si apre, ecco anche il... c'è la pancia per fare... più che la pancia è il petto, se vogliamo, per simulare la chimica del raggio, eccetera, eccetera. Bene, bene, sono solamente contento. E... il DX, il grande Mazinga, speriamo. Anche se io non lo posso dire a voce alta qua, perché sto parlando di Bandai, a dire la verità, a dire la verità, è il mio più grosso, è il mio preferito Toys del grande Mazinga di dimensioni elevate, è questo, se devo essere sincero. E' quello dell'Evolution Toys. Grand Action, Big Size Modern. Se qualcuno questo non ce l'ha ed è un fan del grande Mazinga, io veramente glielo consiglio. L'unica cosa negativa è che questa serie, insomma, le giunture, è proprio la struttura generale, è un po' marionettosa. Se vogliamo, proprio gli ultimi che sono stati, Garada e Dublas, sono stati veramente benissimo. Questi sono un attimino più vecchi, come Concezione, sono un attimino più marionettosi e c'è metallo, un metallo sottilissimo, tipo quello delle lattine, e le pinne qua delle gambe e delle braccia, specialmente quelle delle gambe, sono di un sottilissimo, per cui vi rischiate, nonostante di tagliarvi e comunque anche bisogna stare attenti a non rovinare niente, perché sono veramente iper sottili. Quello è l'unico forse punto negativo, se vogliamo. E se volete il greto busta, ve lo dovete comprare a parte, è l'unica cosa negativa, ma poi per il resto c'è tutto. Il greto busta l'ho comprato, ma non... Io ce l'ho così in teca, ovviamente, perché quelle ali se le dispiego non ci starà mai, e figuriamoci se potrò metterci il greto busta, però comunque l'ho comprato, anche quello. Questo è veramente un gran bel grande mazinga, se uno volesse farsi un grande mazinga per il cinquantesimo, volesse qualcosa di grosso, volesse qualcosa di grosso, Ok, non puoi vederti la circuiteria dentro, ma anche come proporzione a me piace molto. Forse anche più di quello di Bandai, eh. Al momento, devo dire che a me piace. Ok, adesso andiamo oltre il cinquantennale di questi due soggetti, e passiamo a un'altra news più piccola, che però a me ha fatto veramente tanto piacere. Cioè, della nuova linea, nuova linea che di nuovo non ha niente, come nome nuovo, la Sunrise Spirit di Bandai, che non è altro che i vari high metal arrow che sono stati messi in vendita fino adesso, che hanno avuto successo, che vengono ristampati. Allora, hanno ristampato, fino adesso, il game. E la prossima serie, che butta fuori Bandai, e i prossimi real robot che butta fuori Bandai, sono, dalla serie di Zabungaro, il Woka Gyaria. E sono veramente contento, perché del Woka Gyaria, io ho solamente il vecchissimo Chogokin, Damashi, il vecchissimo Sock, e poi l'ho high metal arrow, quello di Zabungaro, ma il Woka Gyaria non ce l'avevo. E da fan della serie, sono veramente contento che Bandai lo abbia rimesso in vendita. Anche perché adesso su Amazon costa 30.000 yen, zero sporco. Mentre qua, il prezzo è onesto, Bandai, questo è solamente sul Tamashi Web, eh. Penso che sia in vendita. E costa 17.600 yen, c'è un prezzo onesto. Io ho il mio parametro, che io, gli high metal arrow a me piacciono, però per un high metal arrow non ci spendo sicuramente, non ci spendono mai più di 20.000 yen. Per cui il Votoms, scopo d'occhio, glielo ho lasciato lì. Perché per un high metal arrow chiedere 24.000, 25.000 yen, per me, scusatemi ogni insulto. Però a questo prezzo ci sta benissimo. E poi, oltre a questo, anche il Daguram, un'altra serie che a me piace moltissimo, Zabungur, Daguram e Dambaina, mi piacciono veramente molto come serie. Anche questo è stato rimesso in vendita. Quello nella colorazione originale dell'anime. Io ho la colorazione real type color, che ho già recensito, quella verde, che è la colorazione, un po', se vogliamo, dei soul tick, dei meccanemici. È come se fosse il... il mecca del protagonista con i colori dei meccanemici. È una cosa un po' strana, però. È bello. Col verde, col Daguram verde, mi piace molto. Questo qua, che è la versione con il normal color, e costerà 14.000 yen. Per cui molto, molto abbordabile. Io ho l'altra versione, ma devo dire che è bella come... Beh, piccolino, ma è mai fatto bene. Daguram un po' l'ho capito di meno, sinceramente, perché su Amazon veramente lo si trova ancora meno. Per cui non so se era necessaria la ristampa, però del Volker Diaria, questo sicuramente. E la prenotazione di questi due e la prenotazione del Mechagosilla partiranno tutti e due il 10 di maggio. Il Mechagosilla sui... tutti gli store Amazon, eccetera, eccetera. Il Volker Diaria e il Daguram probabilmente solo sul Premium Bandai. e quelle del Premium Bandai, ovviamente c'è da ficcarsi subito a prenotarli se non li vuole, tanto il prezzo non cambia. Questo Mechagosilla ti lascia un po' lì così, perché tu ti dici il prezzo scenderà, aumenterà, anche perché il prezzo è veramente... per essere un DX abbordabile. Ragazzi, questo è come il Grand Lagan, come il Grand Lagan, come il Gaufiger, eccetera, allo stesso prezzo. E quelli sono dei... sono dei SOC. Questo è un DX. Però è un soggetto che... ovviamente i Kaiju sono amatissimi qua in Giappone e non solamente in Giappone. Però visto che il GX 103 all'inizio era andato subito sulle stelle, poi il prezzo era crollato e io cacchio alla fine mi sono trovato che ho pagato il GX 103 e qualcosa come i 15.000 ieni in più di quanto alla fine è il momento in cui costava di meno. È arrivato a 24.000, 25.000 ieni e l'ho pagato... e cazzo... 10.000 ieni in più minimo. E sono quelle cose che ti rompono le scatole. Perché uno come me che ha degli introiti estremamente limitati che tra poco vende un rene per comprarsi i toys ovviamente mi dà fastidio andare a spendere di più ma non solamente a me a tutti penso perché non apro questi problemi un altro paio di maniche ma... E questi 39.600 ieni devo dire che sono veramente imprevedibili. Aumenteranno diminuiranno perché il prezzo per un DX ripeto non è alto. Podaschi Bandai non ne faccia molti per cui il prezzo andrà subito alle stelle. Podaschi non aumenta un cacchio per cui il prezzo diminua diminuirà boh Io comunque questo lo prenoto subito perché comunque amo troppo il Mechagosilla e il prezzo parte discretamente abbordabile per cui però anche lì è un bel rebus. Su alcuni punti di vista se anche questo qua l'avessero fatto sul premium Bandai uno non si faceva problemi infatti il prezzo non cambia invece qua su Amazon boh boh veramente vabbè vedremo come andrà a finire anche la storia del prezzo dai allora dai diciamo che il mio video finisce qua cosa ne pensate fatemelo pure sapere ci vediamo sui prossimi video di Death to an Empire ciao ciao brava gente ciao